La festa del Sacro Cuore di Gesù, che cosa rappresenta per la comunità cristiana? È un momento molto importante perché io qui ho cercato di incrementare, si può dire, quelle che è la devozione al cuore di Gesù, perché è una devozione centrale, perché il cristiano deve vivere questa essenzialità della vita, cioè il cuore di Gesù deve essere il centro della vita del cristiano. Per cui ho cercato di incrementarle quando è più possibile, anche cercando di fare la più pratica dei nove venerdì del mese, in modo che la gente deve comprendere che affezionandosi, vivendo la devozione al cuore di Gesù, possa trovare un po' di pace, un po' di serietà. Ed è il cuore di Gesù che ha detto proprio, chi vive queste esperienze dei nove venerdì del mese, ha parentato una santa, ha detto che troverà pace e serietà nei propri cuore e nelle proprie famiglie. E per questo ho cercato di incrementarla e farla vivere alla gente. Per l'occasione è stato presentato anche un cortometraggio sulla vita di Gesù. Sì, vogliamo far imprimere bene nella vita della gente, nella mente della gente, proprio perché attraverso l'immagine si possa imprimere di più nel proprio cuore, quella che è veramente la realtà di Gesù Cristo che rappresenta per la nostra vita. Il gruppo Famiglia si è impegnato nell'organizzazione della festa del Sacro Cuore di Gesù. Sì, ringraziamo il nostro parro che ha avuto sempre fiducia in noi. Però questa festa noi l'abbiamo preparata e l'abbiamo organizzata con il gruppo giovani, con i giovani. Questo è importante perché il cuore di Gesù non vuole scissione, non vuole separazione. Capisco che tra i giovani e gli adulti c'è un abisso generazionale, però Gesù vuole che ci sia sempre il raccordo. Ecco, purtroppo in Italia vediamo che le famiglie e i giovani camminano su due rette parallele che non si incontrano. Noi stiamo tentando di incontrarci ed è bellissimo questo e il prossimo anno faremo una festa alla grande perché quest'anno ci siamo limitati, perché abbiamo i locali invasi dai muratori e quindi via di ristrutturazione. Speriamo che il cuore di Gesù ci aiuti a fare una bella festa a gloria sua.